Buongiorno. Dunque, questa mattina andiamo ad attivare Montegottero Italia Lima Golf 323, se non ricordo male, abbiamo già fatto un chilometro su strada sterrata, adesso si va di là, quello dovrebbe essere il passo del lupo, sopra quella vetta lì, cioè appena dietro quella vetta lì, poi si prosegue per altri due chilometri e mezzo, e si arriva a Montegottero, vediamo non piova, allora quello là è Monte Zuccone, il problema è che il sentiero è pieno di piante, rami, è una continua deviazione, che erano anni che praticamente non veniva una bella nevicata, e questa ha fatto pulizia, piante malate, secche, eccetera. Lascio. Porca putana! Zio Luca! Sì. 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 sota italy zulu for victor che bex era portable qrp sicusota buongiorno manuel eco alfa 2 delta tango qui italia zulu 4 victor kebex sierra 59 qsl affermativa affermativo manuel eco alfa 2 delta tango 59 59 qsl ciao manuel salutami la spagna ciao roger ancona xilofono over roger ontario milano 1 ancona xilofono 59 59 anche per te qsl buona domenica ciao qui a rezzetta allora florida 5 avanti qsl qsl collega della zona francese francia 5 59 anche per te 59 anche per te scusa rumore ma c'è molto molto vento ciao 73 roger golf one golf one over ho capito roger delta golf one november papa messico 59 for you my friend back to you roger foxtrot for brie whiskey bravo november foxtrot for whiskey bravo november 59 back to you hotel my friend my friend my name alessandro thank you 73 e bello sfizer lo facciamo over hotel bravo nine over hotel bravo nine over roger oscar eco 3 germany germany sierra five nine abatto io oscar eco 3 germany germany sierra five nine abatto io ciao 73 qr z hotel bravo nine hotel e delta america 59 qsl thank you my friend thank you 73 good weekend qur z florida five florida five over roger florida five giuliette kilo kilo five nine five nine abatto io roger five nine a you report a real five nine and thank you good weekend bye bye roger delta lima eight complete your call delta lima eight november delta golf you're five and seven qsl qur z delta lima eight november delta golf is correct yeah you're five and seven up to five and nine with the curious baker thanks for this auto activation many 73 nice weekend thank you to you my friend 73 and good weekend bye bye oscar november oscar november over roger ontario napoli sette zulu mike ontario napoli sette zulu mike ontario napoli sette zulu mike 59 qsl con divertimento grazie 73 qur z ecco alfa ecco alfa over roger ecco alfa 2 charlie chilo x-ray roger ecco alfa 2 charlie chilo x-ray 59 real 59 thank you 73 and good weekend bye bye thank you thank you for 599 bye bye qur z roger z roger zulu messico zulu messico over roger sugar 5 7 zulu mike 59 back to you thank you thank you for 595 good weekend uh bye bye and seventy three delta lima 3 kilo delta hotel roger delta lima 3 delta kilo hotel is correct very nice good morning uh delta lima 3 kilo delta hotel you have five by six five by six roger my friend thank you your report is a 59 thank you to you and good weekend bye bye roger alfa golf ontario alfa golf ontario over roger qsl italia whisky 3 alfa golf ontario 56 57 per te 56 57 grazie 73 roger rogerـ roger whisky bambini standard lima cg per te 49 micro respect to i c revolutionary co oh very big signal germany for alfa foxtrot india germany for alfa foxtrot india five nine plus plus five nine plus plus back to you 73 my friend bye bye roger sierra five sierra five over negative sierra five zulu complete your call sierra 57 sierra 57 complete your call sorry roger roger sierra 57 india lima foxtrot sierra five sette india lima foxtrot sierra five sette india lima sierra 57 india lima foxtrot sierra 57 india lima foxtrot sierra 57 india lima foxtrot qsl 73 ciao roger eco sugar yankee over roger 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 e number two eco zero okay roger sorry my friend five nine now you report back to you roger 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 thank you salt activation bye bye 73 good weekend thank you bye-bye six c�w six cacw six cacw italian Zulu 4, Victor, Quebec, Sierra, Portable QRP. Siku, 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 Italy, Zulu 4, Victor, Quebec, Sierra, Portable QRP. A moment, stand by, sorry. Allora, due chiacchiere su questa attivazione sotto. Mi sono dimenticato il blocchetto degli appunti per il log e ho dovuto fare tutto in registrazione. Sempre il mio setup preferito, ovvero il dipolo monopanda per i 40 metri, che è una lunghezza che bene o male in posto da piazzare non lo trovi, anche in metà della montagna. Quella a 15 litri di metri si può assaltare l'apparato, l'FT-817, con una bellissima materiale, e va veramente bene, va veramente bene. Monobanda, così, con il cordatore, vado via, lascio, mi va verticale, con una plagio dico molto debole nelle attivazioni sotto. Tutti ne parlano un gran bene, ma il resto della mia idea è che meglio il dipolo. Montegottero, circa 1780, circa. Confine fra la Liguria, di qua, e l'Umbria, di l'Umbria, di l'Umbria. Giornata neanche troppo malvagia. Un po' di vento, nebbia, ma si riesce a fare qualcosa. Un po' di vento, 73. Grazie a tutti